siamo sul torrente spacca ossa un attimo di me tolgo i guanti tutto ghiacciato non so se riuscirò a fare qualcosa ma prima cosa il fuoco legna attrezzatura tra un po' si comincia a scavare vediamo se riusciamo a fare qualcosa perché qui c'è ghiaccio ovunque ghiaccio ovunque e ghiaccio ovunque la vedo dura stamattina provrò a buttare dell'acqua, la scaldo con un secchio non sarà facile speriamo che non venga a rompermi le balle nessuno per il fuoco che ha acceso, non ha acceso sul torrente non dovrebbero vabbè tra un po' ci mettiamo all'opera vediamo, il posto è buono ora ce n'è ce n'è abbastanza il problema è riuscire a a sbloccare tutto dal ghiaccio la vedo dura qui c'è il mio vino se capita da queste parti sappiate che mi sto facendo un mazzo io non portatemi via il lavoro se potete buona giornata cercatori d'oro c'è che curo un po' il fuoco a dopo